ciao a tutti abbiamo visto numerosi personaggi nelle scorse puntate e oggi io ho pensato che bisogna che noi parliamo anche di personaggi del passato ma del passato veramente remoto e tra questi personaggi a me è venuto in mente leonardo leonardo da vinci perché vedete una trasmissione che parla dei tempi che cambiano se si dimentica di geni come può essere leonardo e come probabilmente ne vedremo degli altri io credo che sarebbe sbagliato proseguire senza averci inserito questi signori che hanno dato sicuramente grande lustro all'italia e al mondo per le loro idee ma anche per un motivo io credo che le caratteristiche di leonardo nascono da una fortissima volontà di sapere e di conoscere e che non deriva solo da una innata curiosità ma soprattutto per cercare di approfondire per se stessi la seconda cosa che mi viene di leonardo è avere degli obiettivi ambiziosi se pensiamo a tutte le cose che ha fatto sicuramente queste erano degli obiettivi ambiziosi che nel mondo del management si potrebbero chiamare vision visioni la terza ed ultima il fatto che sicuramente era un personaggio multitasking perché l'abbiamo visto fare il pittore fare l'inventore fare l'ingegnere fare lo scultore e quindi da questo punto di vista in un mondo come quello di oggi che sicuramente multitasking dove si fanno mille cose contemporaneamente credo che questo sia sicuramente un plus che bisogna dare a leonardo stiamo parlando del 1452 quando lui nacque nacque vicino a empoli a vinci e lui nacque tra virgolette per caso perché il padre che era un notaio importante di quel territorio mise incinta una contadina diciamo che a quei tempi usava a fare così però allo stesso tempo questo padre prese in casa il figlio e lo fece studiare e cosa che invece in altre occasioni i signori di allora se ne fregavano altamente e questo lo lo aiuto molto nella sua nel suo percorso professionale e intellettuale andò a scuola dal maestro verrocchio scultore e orafo e da lì imparò moltissime cose lorenzo il magnifico lo volle con sé all'accademia di san marco e da lì nacque la dipinto dell'adorazione dei magi e firenze però stava stretto a leonardo tanto è vero che poi si trasferì a milano e grazie alle grazie del ludovico sforza duca di milano fece tantissime cose intanto fece l'ingegnere e bonificò la bassa lombardia ma fece anche lo scultore fece anche il pittore e in quegli anni lui dipinse la vergine delle rocce era una persona incredibile insieme a michelangelo lavorò e fece tantissime opere ricordiamo tra tra le sue opere una delle principali sicuramente la mona lisa tra l'altro la mona lisa quindi la gioconda che si dice che venne rubata dai francesi non è vero fu lui che quando si trasferì a parigi portò con sé la tela del ritratto di mona lisa e la donò e tanto è vero che ancora oggi è presente al louvre di parigi a parigi oltre a fare il pittore e lo scultore proseguì la sua attività di ingegnere idraulico diede parecchi possibilità alla città di parigi sulla senna per quanto riguardava il le possibilità che aveva come ingegnere idraulico ma fece anche altre attività sia nel periodo milanese che nel periodo francese lui inventò un sacco di armi di tutti i generi e che dovevano servire a fare in maniera che le 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 battaglie le guerre fossero più brevi aveva un umorismo tagliente si si racconta che quando dipinse l'ultima cena e il la persona che gli aveva commissionato l'opera gli chiedeva a che punto era e lui per scherzo gli disse che gli mancava qualcuno per impersonare giuda se voleva farlo questo signore tanto è vero che questo signore da quel momento lì non non lo angoscio più morì nel 1519 e lasciò tutti i suoi beni a melzi melzi chi era ragazzo di 15 anni che aveva conosciuto e che aveva dato modo di dubitare della omosessualità di leonardo proprio perché c'era molta vicinanza a questo ragazzo era molto curioso e uno degli studi che approfondì molto fu l'anatomia lui aveva una predilizione per il corpo umano tanto è vero che addirittura utilizzava dei cadaveri per riuscire ad analizzare in profondità tutte le le componenti del corpo umano e questo gli creò diversi problemi anche nei rapporti con le istituzioni di quegli anni il corpo umano per loro lui non lo vedeva come un corpo immobile ma lo vedeva sempre inserito nello spazio e il tutto il fondamento delle scienze naturali come lo studio ad esempio dei dei volatili gli servì per approfondire tutte quelle attività e quelli studi che lui fece anche sul sul volo su sulle macchine volanti su tutto quello che lui ci lasciò poi tra l'altro nel codice atlantico mi piaceva molto la meccanica aveva studiato aritmetica e geometria aveva studiato come calcolare i volumi delle dei liquidi dei solidi mi piaceva tantissimo quello che era la botanica e quindi lo studio ad esempio delle foglie come queste possono raccogliere l'acqua lo studio dei cerchi nei rami degli alberi per misurarne l'età era un acuto osservatore e sicuramente alle volte non si spiega come lui si è riuscito ad avere tutto questo tempo anche se poi non ha vissuto tantissimi anni a dedicarsi a tutte queste materie ebbe anche il tempo di studiare astronomia la posizione dei pianeti e tra le altre cose si dice che fosse vegetariano in pratica lui amava molto gli animali e per lui la pancia delle persone erano la tomba degli animali prediligeva i volatili tanto è vero che andava al mercato a comprarli per poterli poi liberare nei suoi studi fu anche l'ottica e quindi quelle cose che poi servirono in futuro per le macchine fotografiche quindi il tema della camera oscura al tema dei binocoli veramente una persona che aveva toccato tutti gli argomenti oggi noi siamo abituati con internet ad avere a portata di mano tutte le informazioni che ci servono lui cosa fece in quegli anni studio in particolar modo aristotele archimede perché pensate che tante delle cose che lui ha progettato poi si sono sviluppate 300 anni dopo lui era veramente un inventore le chiuse praticamente le inventate lui così come le draghe le pompe gli apparecchi per sollevare i materiali i piani di bonifica fece addirittura dei piani urbanistici come poteva essere un ingegnere di oggi sviluppava il tema delle città tenendo già conto di tutte le varianti che potevano servire per uno sviluppo sociale di un certo livello anche in campo sanitario inventò macchine volanti inventò il paracadute inventò l'elicottero perché allora pensava già alla vite come uno strumento utile per il sollevare da terra venne anche un espertissimo tecnico militare tanto da arrivare ad inventare il sottomarino e inventare dei cannoni che sparavano a raffiche a organo ponti da campo carri coperti con artiglierie battelli incendiari studio addirittura le norme di guerra sia sulla terra che sul mare e da lì passo poi agli argani ai torni alle perforatrici e le seghe meccaniche alle macchine per la filettatura delle viti le trivelle i ponti girevoli i laminatori cioè una roba incredibile si considerava un uomo senza studi e tra le altre cose scrisse molto ma disegnò molto anche schizzi perché così era più sicuro di lasciare traccia delle delle sue dei suoi progetti cosa diversa da altri che vedremo in altre puntate e le sue opere furono ad esempio gli atlanti ma anche i vari codici e il volo degli uccelli oltre chiaramente a tutte quelle opere che mettevano in evidenza quanto questa persona fosse intelligente e appassionata di tutto quello che un genio del suo carattere poteva esprimere sicuramente se leonardo fosse vissuto oggi avrebbe avuto a disposizione tante informazioni che integrate alle sue intuizioni ci avrebbero fatti fare dei salti in avanti notevolissimi io credo che personaggi di questo genere debbano essere per forza di cose ricordati e allo stesso tempo anche messi in evidenza perché sicuramente lui non era un imprenditore non era uno che lo faceva per soldi ma era veramente appassionato della sua voglia di ricercare novità innovazioni io vi ringrazio dell'attenzione scrivete sui miei social se avete dei personaggi che mi piacerebbe io provo a documentarmi e poi raccontarvi e ci vediamo la prossima puntata grazie grazie grazie